Giovedì 20 gennaio 2022 Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox Ariete Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi non mancheranno litigi e screzzi, non esagerate e non prendete vela se qualcosa non va come vorreste Forti tensioni e stress anche sul lavoro, state perdendo la pazienza Attenzione in particolare ai rapporti con i nati sotto il segno della bilancia e del cancro In amore potrebbero esserci dei piccoli screzzi con il partner Massima attenzione oggi Sul lavoro c'è sempre un po' di animosità con i colleghi ma cercate di non farvi prendere dalla troppa agitazione, soprattutto con qualcuno della bilancia o del cancro Sarete ricompensati per gli sforzi di oggi, quindi non risparmiatevi e non siate troppo egoisti In questo giorno, invece della solita routine, avrete l'occasione di sperimentare nuove sensazioni che vi toccheranno a tal punto da dimenticare per un poco tutti i problemi che vi attanagliavano Tutto finalmente comincia ad avere un senso e quello che in passato vi faceva soffrire adesso è a vostra disposizione per essere archiviato Il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno Pagellina del giorno Sentimenti, 9, Attività, 8, Finanze, 7, Beneessere, 8 Toro Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore ci sono forti conflitti e tensioni Potete litigare con chi vi circonda Evitate di esasperare i rapporti Per quanto riguarda il lavoro, è necessario un cambiamento radicale, siete stanchi della solita routine Meglio non tirare troppo la corda in amore, soprattutto se ci sono già dei conflitti in atto Sul lavoro sta per arrivare un cambiamento radicale che sarà un po' difficile da accettare all'inizio Non fatevi influenzare troppo dagli stati d'animo altrui, altrimenti finirete per stressarvi inutilmente Non potete evitare l vostro beniamino se non avete la disponibilità economica Non siate invadenti col vostro comportamento nei confronti del partner, potrebbe risentirsi Nella serata cercate di stare accanto alle persone che amate, senza troppe storie Pagellina del giorno Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 10, benessere, 5 Gemelli Cari gemelli, le coppie meno felici potranno riappacificarsi e ritrovare la giusta serenità Chi è single potrebbe ben presto trovare l'anima gemella, che sia la volta buona Non si escludono colpi di scena Per quanto riguarda il lavoro, c'è tanta indecisione, prendetevi tutto il tempo necessario Finalmente torna un po' di sereno in amore sia per le coppie che si vogliono bene che per quelle in crisi Sul lavoro siete un po' indecisi ma meglio riflettere bene su cosa si vuole Provate qualcosa di nuovo che sconvolga, per modo di dire, la vostra routine per esempio, fate un'altra strada per andare al lavoro Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità Siete capaci di essere il partner perfetto e dovete assicuravi di essere con qualcuno che lo capisca Vi sentirete molto appoggiati in questa giornata, poiché le persone che vi sono intorno concordano con i vostri pensieri e con le vostre idee Pagellina del giorno Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 7, benessere, 7 Cancro Cari cancro, evitate di riportare a galla fantasmi del passato In amore è meglio stare con i piedi per terra e non desiderare persone che non sono alla vostra portata Rischiate di rimanerci male Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ottime opportunità, fatevi avanti senza timore Attenzione a non rivangare troppo il passato in amore e sul lavoro arrivano bellissime opportunità da cogliere al volo senza alcun tipo di paura Non siate gelose o possessive in amore Potreste ferire i sentimenti di qualcuno, che rimarrebbe molto deluso dal vostro comportamento infantile Ultimamente siete un po' troppo irritati, forse da qualcuno o qualcosa, oppure, come spesso vi accade, anche senza motivo Un impegno di lavoro o un appuntamento galante che diventerà importante, non possono farvi distrarre durante la giornata Pagellina del giorno Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 5, benessere, 7 Leone Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, ci sono tante cose che non vanno come vorreste, sia in amore sia nella famiglia Capitolo lavoro, i problemi non mancano Con un po' di cautela e pazienza si supera tutto, abbiate fiducia Entro la fine del mese bisognerebbe sistemare tutto quello che non sta funzionando in amore e in famiglia Sul lavoro, invece, ci sono abbastanza problemi ma con la giusta attenzione e cura si può sistemare tutto Non rinunciate mai ai vostri sogni se vedete uno spiraglio per realizzarli La pazienza vi porterà lontano, sempre che riusciate a mantenerla Siete sempre fortunati quando siete in difficoltà, poiché arriva sempre qualcuno in soccorso Per tutte, fascino in abbondanza Pagellina del giorno Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6 Vergine Cari Vergine, l'amore torna ad avere spazio e importanza nella vostra vita Il fine settimana sarà ricco di grandi opportunità ed occasioni Chi ha lavorato tanto in passato ora può raccogliere i frutti del proprio impegno e dei sacrifici fatti Si recupera in amore quindi programmate qualcosa di bello per questo fine settimana Sul lavoro state iniziando a raccogliere i frutti del vostro impegno A casa, i vostri familiari, o i vostri partner eviteranno tutto quello che odiate In amore avrete la possibilità di rinsaldare e migliorare i rapporti già in atto In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente Un investimento potrebbe essere una buona soluzione per un salto di qualità nel vostro ambiente lavorativo Pagellina del giorno Sentimenti 6. Attività 7. Finanze 6. Beneessere 5. Bilancia Cari bilancia, entro il fine settimana potete ricucire uno strappo in amore anche importante Il rischio è che possiate aver rovinato un rapporto, ma siete ancora in tempo per rimediare Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti impegni e questioni da risolvere, datevi delle priorità, le stelle vi assistono Se c'è stato un blocco in amore sarà possibile scioglierlo da oggi fino al weekend Sul lavoro non si può essere i migliori in tutto anche se le stelle sono dalla vostra parte e vi indicheranno la strada Incoraggiate uno dei vostri amici ad impegnarsi di più nello studio o nel lavoro, perché è proprio quello che si aspettano da voi in questa giornata Il momento odierno potrebbe essere importante nella vostra realtà professionale Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio La vostra popolarità è in rapida ascesa in questo momento, a parte qualche inceppamento passeggero Pagellina del giorno Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 7, benessere, 9 Scorpione Cari scorpione, in amore continua per voi un periodo strano e complesso Parlatevi e chiarite eventuali litigi con il partner Per quanto riguarda il lavoro, le cose miglioreranno dalla fine di gennaio Abbiate un po' di pazienza La situazione di oggi è un po' particolare in amore quindi cercate di parlare chiaro con il partner se non siete convinti di qualcosa Sul lavoro la fine del mese porta grandi novità È importante in questo periodo tenere le riservo su alcune questioni, non perché non possiate rivelarle, ma più per scaramanzia, per non fare brutte figure nel caso in cui non andassero in porto determinati affari Cercate di evitare le persone che non vi dicono nulla, poiché potranno solo farvi perdere tempo prezioso che potreste utilizzare in cento altri modi Incomprensioni in amore, non turbatevi più di tanto Non preoccupatevi delle nubi in amore, spariranno presto Pagellina del giorno Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5 Sagittario Cari Sagittario, ottima giornata, gli incontri sono favoriti Potete approfittarne, sia per quanto riguarda il lavoro sia in amore Lanciatevi nuove avventure e datevi da fare, le nuove idee verranno premiate Dovete solo trovare qualcuno che sappia valorizzarvi al meglio Quella di oggi è una giornata molto bella per gli incontri, approfittatene Sul lavoro è ora di buttarsi nuovi incarichi che avranno ottimi risultati Usate la vostra immaginazione per concludere un affare che stenta a decollare Avete tante cose da fare, le opportunità non vi mancano, si tratterà solo di partire dalle più urgenti Se in questo periodo vivete una relazione romantica, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro Mostrare la propria gioia renderà facile far sentire anche gli altri più felici Pagellina del giorno Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 9 Capricorno Cari Capricorno, la giornata di oggi regalerà belle emozioni Non disperdete questa energia positiva che vi pervade e vi permette di togliervi grosse soddisfazioni Capitolo lavoro, è una situazione molto interessante e propizia Avete vissuto trasformazioni importanti che sono ancora in atto Quella di oggi è una giornata che regala bellissime emozioni e tutta questa energia positive dovreste farla vostra Sul lavoro si procede bene Situazione dolcissima in amore La sfera amorosa vi regalerà però momenti indimenticabili e una grande serenità Cominciate con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia Ma anche essere di aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso Pagellina del giorno Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6 Acquario Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 gennaio 2022, in questa giornata potreste facilmente perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda Per quanto riguarda il lavoro, sarà una giornata frenetica, ma per fortuna avete tanta creatività e riuscirete a risolvere i vari problemi La giornata di oggi porta un po' di polemiche in amore quindi tirate fuori tutta la pazienza che avete Sul lavoro bisognerà impegnarsi molto ma voi siete dei creativi e non avete paura delle novità Solo perché i soldi sono un argomento che vi irrita, ciò non vuol dire che non ne dobbiate parlare Non è che dovete preservare il vostro contante disperatamente, ma sarebbe meglio nei rapporti finanziari essere un po' meno altruisti Mantenete sempre un atteggiamento disponibile e equilibrato in amore, per evitare battibecchi e dissapori Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona, forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio Pagellina del giorno Sentimenti, 8, Attività, 8, Finanze, 6, Benessere, 6 Pesci Cari pesci, giornata molto importante per i sentimenti Se ci sono dei problemi, cercate di risolverli il prima possibile Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere in grado di ascoltare anche i pareri degli altri, soprattutto di chi la pensa diversamente da voi Dal dialogo e dalla diversità spesso nascono le cose migliori Quella di oggi è una giornata molto impegnativa dal punto di vista emozionale che porterà qualche piccola discussione d'amore Sul lavoro siate un po' più empatici e imparate ad ascoltare un po' di più gli altri e non solo voi stessi Recupero fisico, recupero finanziario, recupero professionale Oggi le finanze non sono un problema, a patto di mantenere il tuo atteggiamento responsabile e non cominciare a spendere soldi a destra e a manca con leggerezza Il partner di turno non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni Anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo Basta temporreggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto Pagellina del giorno Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 6, benessere Grazie per aver guardato il video Spero di vederti presto